Buonasera, sono Bruno Le Pellegrin, sono di Zoldo e partecipo al progetto Restato Loviti. Partecipo all'iniziativa con una tarsia a linea intitolata Il Fiore Rosso. È un'opera realizzata totalmente in legno. Ho accostato e intarsiato il legno di varie essenze per comporre l'immagine. Il Fiore Rosso vuole essere un auspicio positivo per questa nostra montagna non solo rameggiata dal maltempo di fine ottobre ma anche dall'abbandono delle sue genti.